Il Consiglio di Stato, con una sentenza, ha bloccato la realizzazione di un elettrodotto aereo a 380 kW, un'opera in doppia terna che collega le stazioni elettriche di Chiaramonte-Gulfi e Ciminna in provincia di Palermo, coinvolgendo 6 province e 24 comuni siciliani. I giudici amministrativi di secondo grado hanno annullato per difetto di motivazione il decreto adottato dal Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, con cui era stato espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale. L'opera è stata affidata all'azienda terna, che in una nota fa sapere di mettersi a disposizione dei ministeri competenti e della soprintendenza per fornire tutto il supporto necessario affinché possano assumere una nuova determinazione, sanando il riscontrato vizio motivazionale. L'elettrodotto nel progetto originario ha una lunghezza di 172 km e intende migliorare la situazione elettrica dell'isola. Garantendo gli scambi tra area orientale ed occidentale della Sicilia, garantendo standard più elevati di sicurezza e qualità, sfruttando maggiormente l'energia messa a disposizione da fonti rinnovabili. A beneficiare in particolare sarebbero Palermo e l'area della Sicilia occidentale, che potrebbero svincolarsi dalle centrali di produzioni inquinanti che forniscono loro l'energia elettrica. Grazie. 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 Grazie.